Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Ciao ragazzi, benvenuti, buona serata e come al solito noi estremamente puntuali per poter fare i nostri dieci minuti iniziali di cabaret per fare un po' di pagliacci prima di cominciare a parlare di cose serie. Attendiamo che arrivino i primi, adesso vedo che insomma ci sono già un po' di persone connesse e tra poco vi presento anche il mio ospite che vedete qui già sullo schermo che vi saluta ma ancora... Già l'ho cominciata, vedremo. Facciamo un check che vada tutto bene, quindi ragazzi per favore scrivetemi un commento per sapere appunto se ci vedete, se ci sentite, se è tutto a posto. Ok, c'è Stefano, c'è Manuele, c'è Roberta, c'è Monica, va bene, allora vuol dire che ci vedono e ci sentono. Bene, 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 sono contento. Ricordatevi che se scrivete da Facebook dovete mettere il nome di chi siete perché noi non vi vediamo, cioè non sappiamo chi siete fondamentalmente, di nome, vediamo solo Facebook user, quindi potete anche insultarsi potenzialmente, però evitate. e Monica a belli vi sento, perfetto, 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 bene, bene. Ok, ci siamo, tra pochi istanti, tra un minutino partirà anche il mio bot, così arriva un altro po' di gente, con quale insomma che serve. Questa sera, anzi ve lo dico già, la live rimarrà salvata, così già lo sapete, anzi lo scrivo su una bellissima, su un banner adesso, aspetta, eh, crea un banner, la live, live forse rimarrà salvata, così facciamo anche il bel aggiunto di banner. Condivido anche le slide, se abbiamo un certo numero di persone, proviamo a fare questo. Esatto, spero soltanto se abbiamo un buon numero di persone, condivideremo anche le slide, e intanto mettiamo, guarda che bello che è Striglia, fantastico, bene, 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 c'è Agata, c'è Marco, c'è Stefano, c'è Luca, ma su Facebook non è partita, ma sì che è partita su Facebook, sì, vedo che ci sono degli Facebook users, quindi spero che si veda bene anche sul gruppo. Bene, vi posso presentare il mio ospite di questa sera, che dopo più o meno un annetto e mezzo, che diciamo che dovevamo fare una live insieme, siamo riusciti a combinare. Bene, benvenuto a Massimo Zacchino, ben trovato, ciao Max, come stai? Grazie a te, io benissimo e ti ringrazio davvero, sono sempre entusiasta di fare live, però ho questa, in questo gruppo particolarmente, perché ho apprezzo tanto da questo gruppo, lo ammetto, ma anche proprio da chiunque, dai colleghi che hanno... Già subito così, occhio, occhio, è il presidente della Repubblica, immediato proprio, così. No, no, dico sì, veramente, a me piace condividere, ho un estremo entusiasmo, perché quando condivido poi la gente mi risponde, mi dice delle sue, guarda che c'è anche questa cosa, e quindi si impara sempre, quindi davvero sono contento e dicevo, questo gruppo, davvero Francesco, a parte tu che hai dato sempre consigli, hai, virgolette, è brutto dire educato, però hai portato la cultura di condividere anche ai ragazzi che ti seguono in colleghi, e quindi un sacco di case history, super pratiche su come fare le cose, quindi bello. Sì, è un po' l'obiettivo che abbiamo, nel senso che se facciamo cultura digitale, che vuol dire anche banalmente dire, ok ragazzi, guardate che c'è da fare, cioè si possono condividere le cose, tenere i segreti non serve a niente, e secondo me poi il mercato migliora, perché poi è anche bello sapere delle cose che altri non sanno e tenere sulle per sempre, perché da un lato ti è anche un po' questo sintomo, insomma ti senti più fico uno degli altri, però poi il mercato non cresce, se il mercato non cresce ci perdi anche tu, se invece il mercato cresce con divisione di domande e risposte, con case study, con chiacchiere anche così, sicuramente funziona, poi infatti insomma i numeri si premiano, insomma siamo a 46.000 iscritti ormai sul gruppo, quasi 46.000 iscritti, ce ne sono quasi 30.000 attivi, che sono dei numeri che per un gruppo Facebook standard sono fuori da... Italia, forse non è anche Italia. Tra l'altro c'è anche il buon Filippo Bova che ci segue, grande Filippo. Oh, grande, ciao. Grande esperto, c'è Lore, Lorenzo Tombari, c'è Gabriele, insomma ci sono un sacco di persone. Adesso come al solito la gente c'è qualche minuto di ritardo, però va bene, ci sta, siamo noi estremamente teutonici, possiamo dire. Andiamo con calma, se le persone rimangono e fanno domande... Abbiamo, in realtà ragazzi, Max ci ha preparato una ventina di slide, una ventina di minuti di slide su un argomento molto interessante che dopo poco vi sveliamo. poi c'è un case study, ma se rimanete ve ne facciamo vedere due. Quindi vedete di mettervi comodi. Vedo che hanno notato la mia maglietta da influencer, bravi, bravi, non so chi sia stato, ma ho la maglietta da influencer, ma non me l'hanno regalata, l'ho proprio comprata io. Così, in uno scatto di cose, però quando fai le cose con i clienti, ho scritto Bosti, questo cazzo, effettivamente uno che ne capisce. Bene, 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 ottimo. Allora, di cosa parliamo stasera, Max? Di cosa ci vuoi parlare? Sì, anche, se volete, parliamo anche di cucina vegana, ho imparato a fare una verza al forno, buonissima, mi dico il trucco. No, a parte le battute, volevo riprendere un attimo il discorso che avevo anticipato con Marchetto, che avevamo solo parlato, diciamo, senza slide, e invece oggi voglio andare proprio nello specifico a fare vedere come definire un'anteprima di una ads che svolta completamente le ads, fa partire il funnel, diciamo, in un certo senso. Non c'è solo quello, ovviamente, di cui dico sempre, però è il punto d'inizio, è il trigger, come lo chiama Marchetto, e quindi in suo onore oggi vi faccio vedere come lo sviluppo per me, insomma, che mi lavora. Ottimo, ottimo. Ecco, giusto per capire, ragazzi, io vi ho linkato qua nel gruppo qualche settimana fa una live in cui c'erano appunto Massimo e Enrico Marchetto, che è un grandissimo esperto di advertising, soprattutto su Facebook, in cui tra l'altro ho fatto anche una comparciata alla fine per fare un po' di cabaret, perché sapete che fare un po' di... quando c'è la speracazzata io sono il numero uno, cioè non mi tiro mai indietro, e praticamente in quella live si è parlato di che cosa? Si è parlato di hook, si è parlato di trigger, si è parlato di thumbnail, si è parlato di un sacco di cose super tecniche e super fiche, e a quel punto abbiamo deciso di farvi vedere come si fanno queste cose qui. Perché? Perché dovete sapere, e lo sapete in realtà anche se ci seguite da un po', che per poter fare un ad che funziona, c'è tanto lavoro prima, quindi tanto studio prima, tante analisi dei dati, ed è quello poi di cui si occupa Max da anni, e poi c'è tutta un'altra parte che è quella puramente tecnica, diciamo più tecnica, non puramente tecnica, più tecnica, è quella di trasformare questa analisi in qualcosa che effettivamente sia utile, perché utile cosa vuol dire? Che attiri l'utente e che poi porti al risultato che noi vogliamo, no? Quindi per fare questo tipo di azioni bisogna capire, intanto che cosa, qual è il nostro obiettivo, e il nostro obiettivo dipende dalla customer journey, quindi nel senso è un utente che ci conosce, quanto ci conosce, ci vuole, non ci vuole, è pronto ad acquistare, e fatto questo poi parte tutta l'analisi. Quindi io direi, se non ci sono domande, ma in realtà le domande le rispondiamo dopo, cioè ti va, partiamo subito con la presentazione, e dopodiché andiamo a approfondirla, così abbiamo già delle basi. Ok? Ok, allora tu mi interrompi tutte le volte che vuoi, Ah, vabbè, quindi ti vedo, e poi insomma, ragazzi, come al solito, se avete delle domande, ah ok, potete riprendere velocemente il discorso degli hook, i trigger e i thumbnail. Sì, per cominciare, spieghiamo bene cos'è un hook, cos'è un trigger e cos'è un thumbnail, così almeno sappiamo. Hook è quel gancio che attira l'utente a guardare il resto del video o comunque continuare a leggere. Trigger è quella cosa che gli fa fare l'azione, thumbnail è l'anteprima, è la prima cosa che vedono. Poi lì c'è un libro che si chiama Catturare i clienti, bellino, bellino, devo dire bellino, l'ho letto con piacere, e vi conviene leggervelo, direi no? Cosa dici da Max? Diciamo che è quello che in certo senso ha un po' più portato mainstream in questo concetto di hook, che è appunto un cino come aggancio l'utente, non per farla boccare, ma assolutamente per, io dico, cioè lo peschiamo in un certo senso, no? Prima l'abbiamo pasturato, poi lo tiriamo su, lo coccoliamo in un certo senso, per poi appunto convertirlo, adesso dobbiamo fare questa metafora in un certo senso. E quindi oggi vediamo appunto come farlo con l'anteprima delle ads. Che sono questi thumbnail, che sono l'anteprima delle ads, poi thumbnail si chiama l'anteprima come si parla di video, ma i concetti che adesso Max vi spiegherà sono fondamentalmente gli stessi, penso, non mi ricordo se hai anche qualche esempio statico, ma comunque non cambia assolutamente nulla. Bene, dovreste vedere, fateci sapere se vedete la presentazione, ma io la vedo, quindi suppongo che la vedano anche loro, e attendiamo ancora un secondo, ok, dicono tutti che vogliono le tue cuffie comunque Max, verdi così, fai il sun setter, quasi più della mia felpa. No, sono queste cuffie verdi, bene, sono di Tiger, se volete, e che mi piacevano il verde, e c'è anche la maglietta verde. Federico Giannini scrive, il nostro caro amico Federico Giannini scrive, scrive, posso scriverti in privato per i consigli sulla pastura, quindi consigli su come si pastura. È Giannini che dà consigli su questo. Bene, infatti, tra l'altro, Fede, se hai voglia, alla fine vieni a fare un saluto, ti do il link in privato, ci vieni a trovare, così la buttiamo veramente altissimo. Bene Max, dici che non mi si vede, quindi a te la parola. Dai, io veramente, ti ringrazio ancora per aver chiamato in questo gruppo, che ribadisco, non è per fare ruffiare a nessuno, ma ho preso tanto da questo gruppo, quindi grazie a tutti quelli che hanno postato, le loro chistadi, quindi oggi provo a condividere il mio modo di vedere, diciamo, una parte dell'ads. Non sono assolutamente un tecnico da scalare le ads, tutto quanto, cioè, posso fare a modo mio, non voglio mettermi assolutamente a dare punti su quello, perché c'è Francesco, ci sono più di quante ore, Francesco 60, dicevi, no, è una follia, no, 60 video su l'ads school, quindi... Sì, c'è l'ads school, poi c'è l'ads pro, cioè, a seconda del livello di cui uno vuole andare, quindi ragazzi, se volete imparare a fare sta roba, avete tutti i contenuti del mondo, ma non è l'ultima. Assolutamente, io quello che do, do un supporto a te, concettualmente, a Federico, per fare le ads, capire come andare, appunto a un certo senso, a trovare pubblici nuovi, ma soprattutto, qual è il punto fondamentale che dico sempre? Possiamo fare tutti i funnel del mondo, tutte le costruzioni, iOS 14, retargeting, funziona o non funziona, ma il punto è che se non prendiamo l'utente la prima volta, quando scrolla, lo stoppiamo in quel momento che sta facendo gli affari suoi, appunto, non parte il funnel, quindi com'è che facciamo a convincerlo, diciamo, con quest'anteprima dell'ads? Io, è un contenuto che, è un lavoro che ho iniziato leggendo il libro di Marchetta e ho costruito un sacco di libri perché sono super interessanti, sono sempre degli spunti e quindi in questo libro qua, in un marketing, in un mondo digitale, parla appunto dell'anteprima dell'ads e che cos'è questa anteprima? È l'insieme di, appunto, l'head title, quello che vediamo, l'anteprima del titolo, banalmente, la foto, o appunto il thumbnail, stiamo parlando di un video, comunque la prima immagine che vediamo e poi la call to action. Quello che dico è che questi tre elementi in sinergia tra loro devono fermare l'utente, il famoso trigger che adesso, se questo è il funnel, è il messy funnel, è disegnato da Google, quindi dice che non è più lineare, ma andate a vedere, lo scritto è messy funnel su Google, viene fuori questo report di 90 pagine, molto interessante, però lui dice appunto nella fase di esplorazione, valutazione dell'utente, oggi che è sempre più complessa, appunto abbiamo visto una fail poll online su Instagram, l'abbiamo comprato offline, l'abbiamo fatto quella acquista offline, no? è sempre più intrigata, più messy, però parte tutto da un trigger, cioè un punto di attivazione come anche Marchetto ne ha parlato all'interno del suo libro, forse prima di Google e qua dico no trigger, no funnel, ok? Se non c'è questo non andiamo avanti con la vendita e quello che mi piacerebbe lasciarvi appunto è capire come andare a prendere questi tre, a definire questi tre aspetti in sinergia fra loro, vi faccio un pippone solo di un minuto su come lo fatti, su cosa sono i microdati, io dico definisco questi tre aspetti attraverso l'analisi, attraverso l'analisi microdati che sono le tracce e segnali che le persone lasciano online durante i loro micromomenti, ok? I micromomenti sono qualsiasi momento in cui siamo su Facebook, su Instagram, andiamo su YouTube, facciamo una recensione e dico sempre se siamo in grado di andare a analizzare questi momenti possiamo davvero capire la buyer personas, ve ne lascio solo uno che secondo me è il più forte che c'è nel mercato B2C ma tantissimo anche nel mercato B2B, cosa succede? Io dico sempre questo per me è uno dei più forti luoghi dove andare a capire le tracce e segnali che le persone lasciano online, cioè i loro comportamenti, cosa faccio? Vado all'interno di una pagina Instagram, vado nella tab qua dove c'è l'omino con la carta e l'omino così con la cartella l'ho chiamato tab di brand perché qua Instagram raccoglie i post delle persone. Però qual è il punto vero? E uno dice perché ho riportato il fashion che è tanto diciamo affezionato anche Francesco veramente ne sa a pacche come si suol dire a Bologna sul fashion però qual è il punto? E uno dice molti compriamo per istinto in realtà se facciamo un'analisi dei micro dati sul mondo del fashion andiamo appunto a vedere qua quando le persone si taggano vediamo quando hanno fatto una foto taggandosi con piaccio l'azzalando e qua io per un e-commerce che era bloccato intorno a 2 milioni abbiamo praticamente raddoppiato il fatturato in giro di pochissimo tempo perché? Perché io ho capito che dietro il mercato Sud America dietro a un acquisto di un vestito si può succedere di impulso ok? Perché c'è il bisogno sento c'è lo sconto c'è l'ini che assolutamente vedremo anche ancora super valido però in realtà perché le persone comprono un vestito in questo caso era un vero un vestito sia per andare al lavoro sia per andare alla sera a fare feste in spiaggia perché era mercato Brasile e dall'altra parte per trovare il proprio principe azzurro cioè quindi voi capite se noi usiamo questi angoli questi hook nel nostro diciamo nel nostro Facebook Ads può cambiare veramente tutto e può cambiare che un e-commerce bloccato a 2 milioni e mezzo di fatturato può da lì a poco andare a praticamente raddoppiare ok? Quindi io vi faccio vedere come costruisco come definisco questi tre elementi in sinergia fra loro vi porto un caso secondo me molto interessante che è un local business perché dicono tutti che poi c'è anche un e-commerce alla fine se dopo guardiamo anche un e-commerce però secondo me è interessante perché ho voluto buttare una lancia a favore dei local business io quello che ho visto ci sono local business come questo magari come un centro diciamo medico un po' l'emulatorio il dentista o adesso io ho un cliente di un'azienda di energia elettrica a livello locale ok ci sono clienti local che possono fatturare tanto possono crescere tanto e quindi dall'altra parte possono guadagnarci anche tanto anche noi quindi voglio farvi vedere un po' questo sferrare e tra l'altro sono anche molto più facili da gestire se posso dire io cioè parli con delle persone non parli con delle infrastrutture o delle strutture io poi li chiamo infrastrutture perché come avere veramente un palazzo da costruire ogni tanto quindi il local business in realtà soprattutto per l'Italia è ancora siamo nella golden age ragazzi è proprio il posto migliore dove cominciare e poi in realtà non solo cominciare perché comunque ragazzi se il business locale scala lo fate scalare tanto e scalate con lui e comunque ci sono opportunità e costruite un know-how comunque vi torna utile cioè non è solo l'e-commerce il gioco il gioco è per fare advertising per solutare l'opportunità solutare l'opportunità vuol dire conoscere quello che sta succedendo intorno a noi sì c'è solo un difetto il local business secondo me quando va troppo bene dall'altro c'è un imprenditore euforico e ti chiede di fare qualsiasi cosa dopo facciamo SEO facciamo quell'altro oppure si rompe tra l'altro perché va troppo bene e loro vogliono il fatturato e si rompe e si rompe cosa vuol dire vuol dire che se tu hai cinque estetiste che lavorano per te non puoi portare clienti per otto estetiste perché non è che anche volendo non è scalabile da questo punto di vista quindi l'imprenditore invece quando vede il soldo entrare dice andiamo andiamo facciamo no questo è molto alla fine è molto euforico molto entusiasta e sono contento perché in realtà poi facciamo sempre cose nuove però ascolta anche molto quindi si riesce anche diciamo un po' attenuare però adesso è quasi un anno che lavoriamo insieme praticamente alla fine questo case study adesso sta a prendere il secondo studio settimana scorsa è entrata una figura che fa da piano diciamo editoriale messo in leva in piano ads che secondo me è fondamentale quindi insomma ha preso il secondo steopo ci stiamo prendendo delle belle soddisfazioni tutto con un po' di calma e tenendo il cash flow un'altra cosa da fare assolutamente anche nel local business quella cosa che ha fatto vedere Emanuele Maragno ovviamente molto più semplificata prova fatta anche per un local business se no appunto può assolutamente esplodere perché si può prendere dall'euforia però oggi insomma guardiamo appunto come andare a costruire questa anteprima l'ho portata appunto perché è un business locale far vedere che anche usando la domanda e domande che le persone fanno su google ci possono tornare utili per andare a scrivere i copi su facebook quindi secondo me era molto 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 interessante quindi partiamo ho questi tre elementi da costruire quest'anteprima dell'ads io tutti i libri di copi la maggior parte partono dicendo devi partire dal titolo dall'headline io oggi non sono d'accordissimo per quanto riguarda fare invece un post di facebook è un mio modo di vedere che sia la verità però penso che quando le persone scrollano su una news feed quello che può attrarre tanto l'attenzione prima di tutto è la foto l'immagine di video che si parte quello che ti prende l'occhio poi da lì le persone leggono l'headline e potenzialmente leggono la call to action quindi io il primo elemento che decido di diciamo strutturare da dove progetto questa anteprima è appunto la foto perché da qua secondo me l'utente si ferma poi ognuno c'è la sua visione quindi io vado dalla foto e come mai ho scelto questa foto con questo collo non è assolutamente casuale andiamo a vedere come ho fatto allora il tool che uso per scegliere la foto sono due uno è Modash e l'altro è Inflat.com le ho messe tutte e due perché in questo caso ho usato Modash per fare questa cosa però adesso da qualche mese questo tool credo che me lo fece conoscere Sergio Graziano che è quel ragazzo che ho commentato prima adesso l'hanno trasformato in Inflat.com è praticamente gratuito perché l'hanno riempito di banner e cosa succede? questo è un tool che ci dice se noi mettiamo dentro l'url di una pagina Instagram ci fa vedere quali sono i post più popolari della pagina quelli con più engagement con più commenti quindi io dico se questi sono quelli che hanno avuto più interazione inizialmente sono stati in organico sono stati quelli più interessanti per le persone quelli che hanno sotticato la loro attenzione e se poi noi ci guardiamo vedete ci troviamo sempre un pattern comune perché sono diciamo i sei post in questo caso di una pagina di un osteopata vedete ci sono due elementi i piedi che non avrebbe pensato di dire al mio cliente fai video mentre il tipo massaggi i piedi mentre l'osteopata massaggi i piedi al cliente al paziente e l'altro vedete il collo alla cervicale quindi non è a caso che qua ho messo la cervicale tra l'altro Max se ti interrompo si si no no quanto vuoi è da capire che a livello organico ok i pattern che adesso di cui vi sta parlando Max per la dv funzionano uguali a livello organico cioè io vi dico che abbiamo fatto diversi test negli ultimi mesi per i quali se tu inserisci una determinata parola e una volta per esempio nella prima slide del tuo carosello metti un certo tipo di parole e queste vanno virali le successive volte che utilizzerai in redline la stessa parola avrai una spinta maggiore oppure se metti sempre nel caso specifico i piedi il collo già l'algoritmo di base di Instagram quello diciamo organico ti spingerà di più il post in partenza quindi studiare queste cose vuol dire anche avere un qualcosa da poter utilizzare non solo per advertising ma anche per la parte gratuita ragazzi è fondamentale tutti quelle impression sono impression gratis tutta quella esposizione che se finite su esplora vi porta essenzialmente un aumento dell'efficacia del vostro brand in modo molto molto efficace ed efficiente tra l'altro o con i reels ancora meglio altro punto non da poco se lavorate a livello locale ragazzi è ancora meglio perché a livello locale la distribuzione fondamentalmente è per sua natura limitata e quindi se riuscite a beccare quello che funziona saturate continuamente senza cioè alzate la frequenza a disposizione del vostro brand frequenza uguale ricordo uguale ok fondamentale concordo bene vai vai scusami ma no no quanto volte che vuoi assolutamente io questo non la sapevo quindi ti ringrazio vedi condivido l'imprata una cosa nuova quindi ottimo ti ringrazio quindi per decidere diciamo l'anteprima delle ads parto da questo da questi due tool qua vado a vedere appunto quali sono più commentati che hanno più like e così via che poi in realtà secondo me c'è una differenza importante anche andare a vedere quello che ha più like e quello che ha più commenti infract ce le divide questi due post quello che ha più più like potenzialmente appunto è quel video quell'immagine quello sketch diciamo che ha avuto che è più piaciuto ha avuto più un'interazione in un certo senso quello dei commenti invece vado a capire perché come ha fatto a stimolare i commenti perché è davvero difficile stimolare i commenti delle persone quindi vado a vedermi ha usato una call to action ha usato un trick vado a cercare di capire e vedere se riesco anch'io a replicare quella cosa poi sempre per decidere l'anteprima dell'ads cosa faccio uso i miei cari hashtag per me appunto l'hastag dietro l'hastag c'è la vita delle persone in questo caso scrivo hashtag cervicale parto dal problema bisogno non dal prodotto in questo caso steopta ma parto dal problema voglio vedere come le persone che contenuti cercano diciamo in questo caso interagiscono col problema cervicale ok e di nuovo se vedete collo 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 sono quelli che vanno di più quindi io cosa ho fatto dopo ovviamente quando sono qua è molto interessante fare questa analisi con la cervicale perché intanto video appunto di contenuti che ci possono essere utili diciamo ispirativi ma poi troviamo delle pagine come questo steopata molto bravo Giovanni Bonfanti che sono andato a vedermi perché questo qua ha migliaia di interazioni migliaia di like centinaia allora sono andato a studiarmi i suoi video e mi sono accorto anche qua di un partner che ho chiesto al mio cliente di fare questo cioè cosa mi sono accorto perché il collo funziona intanto perché magari no perché ti ferma perché dice oddio cosa sta facendo sta storgendo un collo questo chi è no questo è quello che ti ferma intanto in anteprima poi gli dico come sviluppare il video e quello che mi sono accorto è che i video che avevano più interazione guarda 2000 mi piace 2000 mi piace 25 commenti qual è il punto 11 vanity metric sì però a me non interessa quanti ne ha cioè a me interessa che è come se fosse un lo stanno valutando ok cioè la cosa premi lo stanno valutando e trigger quando tu stai valutando stai trovando un modo matematico di valutare il trigger e tra l'altro 2000 like cosa sono 150.000 impression è un voto perché questo non fa sponsorizzate sì questo non fa sponsorizzate quindi quello che appunto sono andato a capire ma come fa a fare tutti questi like queste interazioni se guardate si ripeteva sempre questo partner cioè c'è la persona spaventata c'è la manovra in corso e la persona felice cioè capite capite c'è il problema il prodotto che prende diciamo atto alla sua manifestazione e alla fine si è risultato la soluzione e io ho detto devi fare questo ai miei clienti e i nostri video praticamente sono quelli iniziali sono stati tutti così perché poi l'analisi è continuamente in divenire perché Facebook è sempre creatività e così via però questa è stata la creatività che ci ha fatto partire tra l'altro è molto bella questa perché si vede che all'inizio lei è triste e alla fine lei è tristata e tutto questo in che cosa due secondi non so cinque secondi quanto durerà è una bomba è real vero cioè questo è proprio sei dentro nel mondo quindi capite che non dobbiamo inventarci assolutamente nulla quando mi dicono virgolette sento senza passate rido quando mi dicono non riesco a trovare creatività oggi faccio vedere questo metodo come faccio vedere un altro dopo alla fine sull'e-commerce faccio vedere cinque creatività diverse ma con un'analisi di un hashtag dopo ve la faccio vedere come copie quindi anche qua c'è un investimento di un'oretta cioè per provare per fare i primi copie ovviamente devi fare sempre tutte le volte un'ora 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 ovviamente però quindi non è tantissimo l'investimento e si trovano queste cose che funzionano mi devo servire la notte poi appunto io trovo anche dei contenuti da piano editoriale perché secondo me a livello local come diceva Francesco poi se sei bravo riesci a avere diciamo di realità del seguito in un certo senso a livello locale nel tuo bacino fai presto raggiungere la situazione poi io quello che faccio prendo sempre le ads scusate le copie le creatività da piano editoriale e le metto sempre in ads nell'audience che ha interagito con me negli ultimi 365 giorni quindi diciamo le metti in piano pubblicitario in questo modo l'audience la riscaldo sempre perché ci siamo accorti che c'è gente che appunto vede ha visto il primo video sei mesi prima poi non aveva mal di schiena però ha continuato a stare dentro il nostro retargeting da informativo altri contenuti così di intrattenimento e quando ha avuto mal la schiena ci ha chiamato queste parole delle persone magari banalmente ha parlato di voi cosa che tra l'altro ci si dimentica ma a livello locale è una leva pazzesca questa cioè il fatto che allora se il video è insomma come si dice crea engagement non mi viene la parola giusta non è interattivo la parola giusta ma insomma fai interagire le persone crea engagement di qualche genere poi le persone intanto lo condividono due ne parlano e tre comunque gli rimane in mente quindi ah guarda che ho visto quel tizio lì ti faccio un esempio pratico eravamo l'altro giorno da Porco Brado che è un cliente che stiamo seguendo da un po' che probabilmente conosci e insomma devono lanciare un nuovo prodotto e mi ha detto ma vi viene in mente qualche chef magari della zona a me sono venuti in mente tre chef che ho visto su tiktok dieci volte non so neanche quanto siano bravi però mi piace come fanno i video e gli ho dato tre nomi in un colpo solo senza che cioè io non mi occupo di questo però mi ha detto ma viene venuto in mente qualcuno perché abbiamo un prodotto nuovo collegato a quello che già facciamo e quindi così e questo cos'è è engagement continuamente io riguardo continuamente interagisco continuamente più aumento il tasso di ricordo e torniamo sempre al punto di prima assolutamente è un corso privato diciamo dove c'era Marchetto e ho iniziato a parlare anche Marchetto più di un anno fa quindi se parla Marchetto è sempre avanti anni luce quello lo fa al suo modo ma è solo perché fa parte della classe boomer e allora cosa vuoi lo facciamo fare questa roba quindi insomma questo per dirvi anche qui vedete qua la differenza che questi sono appunto contenuti perché li ho divisi questo è un contenuto da conversione cioè tu lo guardi c'è un problema c'è il prodotto in funzione in questo caso è una persona che fa una manovra però c'è un prodotto che lavora e poi il risultato finale per me questo diventa un ads un video da piano pubblicitario da funnel pool o TFMFBF questo invece appunto da piano interiale le storie i series che non sto vendendo nulla sto intrattenendo le persone però sto sempre richiamando il problema questa persona dice ed è molto c'è è di molto in questa persona capisco perché sto male sto sempre dal computer curva sul divano sto storta poi vado a letto o dal telefono per forza che è male al collo quindi capito io questo lo possiamo rifare cioè però quindi non mi invento nulla ho altri questi che vanno tantissimo sono tre eserciti sul mal di schiena questi qua sempre appunto contenuti da pianitoriale da stories che in realtà potremmo fare che adesso iniziamo a farli questi adesso c'è c'è il nuovo osteopata donna quindi adesso abbiamo un uomo e una donna e gli chiederemo di fare un esercizio da 10 secondi perché lo faccio vedere perché facciamo gli esercizi di secondi come lo facciamo e poi diciamo però questo non basta vieni che ci sono io che ti faccio un trattamento completo ok però anche qua gli esercizi funzionano perché le vediamo qua e le vediamo anche da un'altra parte e vediamo quindi diciamo qua ho scelto l'anteprima del video e il video stesso ok adesso appunto passo al secondo elemento di un'anteprima di un ads che è l'headline perché credo che secondo me la persona guarda lì guarda l'headline e poi la call to action poi può fare anche in modo diverso però bene o male diciamo ipotizzo questo modo di ragionare di guardare l'ads l'anteprima come faccio a scrivere l'anteprima vado su answer the public cioè answer the public che cos'è è un tool che ci dice cosa le persone stanno cercando su google diviso per preposizione e io qua non analizzo il prodotto la soluzione in sé ma parto a capire sempre il problema perché è questo noi vendiamo soluzioni a problemi quindi io per vendere la soluzione devo capire il problema il bisogno se no non riuscirà mai a vendere il prodotto questo come ragiono io quindi vado su answer the public e non scrivo osteopata ma scrivo analizzo i problemi appunto mal di schiena e quindi vado a vedere cosa cercano le persone legate al mal di schiena è diviso per preposizioni in questo caso viene fuori come curare il mal di schiena esercizi per il mal di schiena e sciatica vedete torna mal di schiena basso quindi noi anche usare la parola mal di schiena hai mal di schiena hai mal di schiena non si può usare però come curare il mal di schiena basso nella parte bassa ha una maggiore interazione e tasso di click e poi potenzialmente conversione rispetto a solo mal di schiena e basta come dico sempre ricette vegane se scrivete ricette vegane e basta o 500 ricette vegane semplici facili veloci e gustose ha tutta un'altra interazione io questi termini non me li invento me li vado a cercare quindi vado a cercare a capire come le persone stanno cercando di risolvere il problema per cosa sono andati in come poi se vado a vedere qua le persone cosa prendere quel mal di schiena appunto dopo che cercano di capire come curarlo cosa fare cercano anche di capire cosa prendere per il mal di schiena quindi come è venuta fuori la mia headline diciamo che ci ha fatto fare si è fatto raddoppiare lo studio ho scritto la domanda di google perché penso ci sono persone che stanno cercando anche se sono poche però sono persone diciamo in modo statistico stanno cercando come curare il mal di schiena potenzialmente se io raggiungo un numero più ampio di persone in bisogno latente se hanno quel problema potenzialmente si fanno le stesse domande ok quindi ho scritto come curare il mal di schiena la cervicale headline attacco sicuramente i farmaci cioè capito ho unito il come il cosa perché sicuramente i farmaci ti aiutano perché non è mica vero che non ti aiutano ma siccome se le prendono il loro percorso reale d'acquisto stanno un po' meglio io dico sì stai meglio ma non guarisci per guarire devi passare da un centro professionale e via dicendo e ci sbrodolo tutto il copy però questa roba qua appunto in medesima la persona non le sto vendendo diciamo dicendo no ho io tutta la verità in tasca sul mio prodotto funziona dicendo quello che fai tu funziona ma non serve per risolvere completamente il problema ok quindi headline mi raccomando l'attacco controllate sempre questa cosa qua per me è importante perché se fosse solo scritto come curare il mal di schiena cervicale avrebbe avuto sicuramente meno effetto che sicuramente i farmaci vedete poi l'ho messo diciamo con l'hashtag ma solo perché così si evidenzia un po' di più poi un altro questo è un buono contrario potete scrivere basta farmaci basta farmaci e sottoscrivi mal di schiena e poi bla 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 funziona uguale perché comunque l'importante cioè ragazzi ricordatevi quando si fanno queste cose vanno create in modo scalabile cosa vuol dire che se questa ad va forte a un certo punto smetterà di andare per sua natura facebook smetterà di trovare persone più insomma che interagiscono con questa cosa se tu hai possibile scrivere come curare il mal di schiena e la cervicale sicuramente i farmaci scrivi sopra invece basta farmaci mal di schiena ecco come curarlo ok hai una distribuzione differente però alla fine il lavoro che devi farci dietro quello che vi ha spiegato Max è uno solo e quindi ottimizzate i risultati e soprattutto ottimizzate l'investimento che avete fatto magari un'ora magari sono tre ore le prime volte magari sono dieci minuti quando già conoscete il brand però ottimizzatelo quindi vedete cosa vuol dire studiare prima di fare è questa che fa la differenza sbattiamo questa contro il muro e non riesco a fare il creativo oddio è difficile è quello invece no faccio vedere quell'e-commerce che mi sono sbizzerito di più perché posso ho più budget quindi posso ne vuole di più quindi ne faccio molto di più però appunto assolutamente quello è voi avete tutta questa roba da mettere insieme da provare di mischiare per andare a testare poi cosa funziona non funziona poi faccio vedere appunto dopo come valuto su un anteprima di un ads funziona o non funziona ve lo faccio vedere fra un secondo quindi questo abbiamo scritto anche diciamo il titolo io un altro modo per cercare titoli estremamente performanti questo è un piccolo bonus che do che ho anticipato nella live con Marchetto è questo anche qua una bomba cioè cos'è cosa sono questi qua vado su youtube scrivo mal di schiena in questo caso ok clicco sul video mi dà già dei video con l'anteprima dell'immagine e il diciamo il titolo però di solito ho visto che forse è stata una casualità però io clicco su un video poi cosa succede a tre quarti viene fuori il video grande poi a un quarto abbiamo un elenco di video no io penso se youtube mette quei video in quel momento lì accanto vuol dire che sono per lui secondo l'algoritmo altamente performanti perché qual è l'obiettivo di youtube farti stare dentro la piattaforma il più possibile quindi dico no se mi ha messo accanto questi video vorrà dire che insomma avrà un piccolo trucchetto in merito usate youtube in anonimo perché se lo usate loggati con il vostro profilo e utilizzate tanto youtube vedrete dei video non direttamente correlati al video principale ma lo vedrete correlati al vostro utilizzo youtube e quindi magari ci trovate gli oasis di fianco al mal di schiena ma non mi sembra che siano adesso non so probabilmente Liam Gallagher ce l'avrà al mal di schiena ma non credo che sia la correlazione ecco quindi occhio anche a questo se lo fate da slogati funziona meglio è vero lo faccio non ci ho pensato a dirlo bravissimo perché lo do per scontare invece è bravo solo perché è ovvio se lo fai sempre è ovvio però in realtà ho usato un profilo nuovo insomma un gmail è faccio in anonimo quindi esatto ottimo quindi dicevo per me qua dentro che cos'è di nuovo torniamo un'immagine di anteprima è un titolo poi mi dicono molti ah ma non puoi scrivere velocemente questa roba qua assolutamente non è che devo però prendere per forza queste parole e portare di là sono di ispirazione per andare a scrivere i copi però come e tra apparenze dove dormire sicuramente ha letto all'occhio una delle domande più spesse che si fanno alle persone è come dormire quando ho mal di schiena quindi ho fatto un sacco di roba su quello se l'avete però appunto mi prendo ispirazione e poi dico quello che io non posso usare in ads in realtà un local business io lo attacco all'email automatico cioè io prendo il lead ma prima che ti da lead alla chiamata tu ricevi dell'email e io qua dentro ci posso scrivere quello che mi pare concettualmente sempre rispettando la persona non prende il giro non faccio mai marketing manipolazione però quello che posso dirvi io qua dentro ci posso scrivere come ridurre velocemente il mal di schiena perché non vengo bannato ok quindi possiamo usarlo sia tutto quello che è legale lo puoi scrivere sulla mail assolutamente non vendo pastiglie strane anche se è un centro no no ma guarda noi è un cliente che vende integratori e ci sono delle normative estremamente complesse ma tutto quello che è legale le mail sono assolutamente insomma il segreto la salsa segreta per poi riuscire a fare quello che ci serve quindi quindi qui un altro discorso tornando a local business anche con local business si possono fare anche delle cose non estremamente complesse ma si possono applicare tutti i concetti che abbiamo quindi dalla facebook ads fatte in un certo modo anche le mail automatiche non avrò 20 con retargeting carrello non carrello e così via però ti lasci lì ti faccio tre mail automatiche e questa roba converte e cosa vado a dirgli qua dentro di nuovo le domande che ha i fanci non curano il mal di schiena ma devi venire da me ok quindi richiamo gli argomenti di prima per questo stiamo convertendo davvero bene in questo cliente perché stiamo rispondendo anticipando le domande e i dubbi delle persone ok poi appunto anche qua vedete ci sono sblocca la schiena in un esercizio trucco posturale magari queste cose qua con la fraccetta non possiamo usarle sulle facebook ads ci sono le police privacy ma Francesco le dice cento volte le spiega fa un sacco di esempi quindi guardate le police privacy però possiamo prendere assolutamente ispirazione come sblocca la schiena in un esercizio questo invece noi faremo i video in questo modo perché possiamo dirlo un esercizio e poi dopo vieni da noi per preparare una vista posturale completa ecco ragazzi se volete fare la prima in modo legal pulito e non ban semplicemente fate un articolo per il vostro blog e questa è l'anticipazione di quello che vi spiegherò domani mattina che tratta del tema e non scrive trucco posturale nell'headline ma scrive cinque metodi innovativi per combattere il mal di schiena e all'interno dell'articolo parlate di trucco parlate di quello che è ovviamente sempre rispettando quello che è la legalità e le leggi cioè le leggi le pollici di facebook però saltate quel problema perché quando tu mi scrivi trucco posturale per il mal di schiena con la freccina così è bannata quella prima no no l'ho detto subito assolutamente infatti era giusto per confermare però ci possono fare questa ricerca se poi l'ha applicata agli strumenti è quella che poi vi fa la svolta e poi guarda anche sblocca la schiena con un esercizio ha la faccia convincente questo uomo devo dire è bravo questo a seguito però vedi anche qua possiamo dirlo però un esercizio scopre un esercizio da dieci secondi questo lo possiamo dire quindi capite e se questo dieci secondi ha avuto interesse youtube lo spinge a 67 mila visualizzazioni magari rispetto facciamo rapportato anche gli altri video vuol dire che sto dieci secondi ha funzionato a noi cosa costa se possiamo farlo lo mettiamo nella nostra campagna di test in ABO se le fate in ABO i test c'è l'ho lì c'è il mio adset dedicato la mia creatività dentro e vedo dopo tre giorni quattro giorni se ha funzionato questo è il punto ok però così non avete mai limiti poi siamo arrivati al terzo elemento ho fatto molto stringato asciutto anche la prima parte sono su un po' volato sui micro dati ho fatto solo un esempio e volevo appunto fare molta interazione oggi domande però c'è l'ultimo elemento qua diciamo vado ancora più veloce ma perché la call to action diciamo ne abbiamo viste di tutti i colori libri di copi ci sono tanti argomenti anche Francesco ha fatto sempre tanti esempi io quello che vi dico sulla call to action è questo oggi anche una persona oggi su un mio post linkedin mi ha detto ah il prodotto civetta gli sconti non funzionano più funzionano dieci anni fa io quello che dico gli sconti questa roba qua non sono più le leve assolutamente con cui subito prendiamo la persona mi dico secondo me sono leve secondarie che possono spenderci la parte emozionale quindi leve razionali che spingono la parte emozionale quindi quando dici oh lo voglio poi vai a vedere se c'è anche uno sconto ovviamente sei più propenso e questa roba non la dico io la dice google sempre questo famoso la dice il buon senso anche direi max cioè nel senso no io quello che dico assolutamente oggi la persona lo dico sempre è iper informata non la possiamo più prendere in giro tutti i trucchetti scadenza quella roba dipende sempre dalle nicchie dai pubblici però ovviamente le conosce quelle cose lì certo quindi non dobbiamo né abusarne né essere finti però come dice facebook le persone nel tempo dal 2011 al 2020 hanno cercato su google discount code promo code è sempre salita se l'abbiamo usiamoli cioè non è mica brutto usare sta roba il bias è la scarsità quindi poi scritto c'è il dm evergreen facebook ci dice che assolutamente ancora le persone vedono uno sconto che scade domani se scade domani veramente scade domani io con frutta web dicevo sempre siccome quel pubblico ci conosceva diciamo un'azienda seria quello che facevo ogni settimana facevo cioè all'inizio del mese facevamo le quattro settimane ogni settimana avevo un argomento diverso la settimana viola la settimana rossa arancione e così via c'erano i frutti in offerta esotica biologica e veramente dicevo scade domenica e domenica scadeva cioè non è prende in giro le persone o il corso c'è solo fate l'apertura tre giorni c'è solo tre giorni ed è vero quindi non è che non si possono dire se sono vere google ci dice che assolutamente ancora funzionano la riprova sociale le recensioni soprattutto i bias di autorità che cosa sono i bias di autorità rispetto alle recensioni la recensione è un cliente che dice sei bello e bravo un'autorità è un'entità conosciuta nel tuo settore come può essere TripAdvisor a un ristorante che dice che è buono bisogna andarci ok o non lo so o Francesco che è un'autorità e dice ascoltate Massimo in questa cosa no andatevi a comprare il libro di Massimo cosa che abbiamo postato con Marchetto ragazzi andatevi a comprare il libro di Max e poi abbiamo guardato quanti erano più o meno e funziona perché se ovviamente mi sono dato di chi vi dice questa cosa e questa cosa è vera ovviamente perché poi quando diventa Marchetta non funziona quando invece è consiglio autorevolezza è la leva è una buona leva ok questa felpa con me invece ha funzionato non per l'autorevolezza o per il consiglio ma per l'esposizione però il fatto di averla vista esposta su tante persone che io ritengo fighe come stile ok mi ha dato la leva in più ok se non abbiamo detto di comprarlo come si chiama il tuo libro Max perché io non me lo ricordo mai è un titolo troppo mega lungo quindi si è design marketing ma ha scritto design marketing design marketing scrivete il suo nome su google ragazzi lo trovate ho separato 6.000 copie Francesco finalmente sono fatta 6.000 copie ragazzi 6.000 copie non so per dirvi Bruno Vespa praticamente no è stato vero perché vedi l'anteprima funziona e soprattutto le autorità nel senso ho avuto una grande fortuna che ho avuto persone come te che ne hanno parlato mi hanno ospitato e questo ha portato le persone a delle botte di vendite cioè tutte le volte che qualcuno mi citava mi ospitava questo in realtà e poi alla fine se il prodotto è buono è giusto che sia così se il prodotto fosse pessimo avresti smesso di vendere molto prima dei 6.000 e voglia ne ho visti tanti partire forte e poi perdersi per strada perché poi comunque l'autorevolezza è una leva ma poi ci sono tutte le altre e le altre sono quelle che poi contano nel lungo periodo lo dice anche Saldini fondamentalmente anche se poi lui parla di persuasione o di queste robe qua che insomma non puoi come termini però le altre sono quelle assolutamente va declinato ai giorni nostri il potere della gratuità cioè anche in fronte web era meglio mettere uno sconto del 10% sul tuo primo acquisto che magari sul carello medio del primo acquisto era intorno ai 35 euro 40 euro perché era il primo acquisto quindi veniva fuori uno sconto di 4 euro o mettere il mango italiano che aveva un valore di 5 euro sul carrello però a noi costava 2 euro quindi a noi costava meno e convertiva di più perché ti stiamo dando una cosa gratuita ok quindi in realtà usiamo queste cose con testa o anche banalmente immagino faceste anche voi noi facciamo con un cliente la settimana del bianco ok che era una cosa veramente stupida una volta ogni 2-3 mesi facciamo una settimana di promo che però erano promo costruite su che cosa sul fatto che se tu compravi le lenzuola io ti davo anche le federe facciamo un esempio quindi facevo marginalità perché comunque ti spediva un pacco più grande a parità di prezzo e ti fidelizzavo più nel tempo alzavo il lifetime value e lo sconto non c'era lo sconto sulle lenzuola capito cioè poi guarda ti faccio un esempio anche il prodotto civetta noi facevamo l'abbiamo fatto verso la fine questo però il prodotto del giorno in sconto e partiva la mattina cioè partiva mezzanotte e rifiniva mezzanotte cioè appunto ogni giorno c'era un prodotto sotto costo però dopo tu facevi un carrello da 48 euro 52 euro il carrello medio poi ok quindi riassorbivi la mancanza in mancanza però dava la voglia di comprare lo voglio e intanto faccio la spesa delle altre cose insomma queste cose usate con test non per fregare le persone per me funziona ancora il mango italiano funziona da sempre dai ma no si era buono proprio sapeva un po' si era buono poi sulla call to action appunto non mi soffermo di più quello che io dico quando definisco una call to action ho due cose in testa adesso qua l'ho un po' marcata un po' forte nella seconda però la cosa che dico essere specifici chi mi conosce chi lavora con me e dico si più specifica sempre quindi è non torni in salute basta torni in salute in tre sedute torna il mango come di cosa sai il mango il mango italiano è fresco no è fresco perché l'abbiamo raccolto ieri e oggi arriva a tavola cioè spieghiamo sempre perché stiamo dicendo una cosa bastano tre quattro parole in più poi qua l'ho rimarcata molto praticamente come l'asseo devi andare a prenderti la frase tutta lunga non solo nel primo pezzo assolutamente e qua adesso qua l'ho marcato un po' però per farvi capire il concetto che voglio dire qua posto di dire un depuratore bevi acqua più pulita è dissetati cioè quello che succede se tu prendi bevi quell'acqua dissetati con acqua purissima cristallina fresca come se fosse il ghiaccio dell'antartide l'ho marcata molto non scrivo così però per farvi capire in realtà quello che dico quello che cerco di fare che non è sempre mai facile però provo sempre un po' di farlo è quello di cercare di suscitare un paio almeno dei cinque sensi cioè di dare un'idea un'immagine di come se la stessi in questo caso sentendo quell'acqua fresca ok quindi questi sono i miei consigli specifici e cercate di stimolare almeno un paio di sensi l'immagine di quella cosa anche il frutta web dicevo è più dolce di una pesca di una pesca romagnola se non mi ricordo come dicevamo però cerco sempre di dare un esempio un aggancio di creare un'immagine vi ricordate che avevo scritto all'inizio creare sinergia tra immagine e parole quindi ma questa roba funziona secondo me funziona faccio vedere perché adesso questo è il costo per lead quindi adesso questo è credo degli ultimi tre mesi non ricordo però vedete 38 gruppi di inserzioni e vedete costo contatto poi ci sono vari test ovviamente non è che tutto converte a 3 euro 2,70 e così via però nella media stiamo convertendo a 3 euro 4 euro che capite che a seconda dell'offerta che facciamo offerta si intende della proposta che facciamo perché stiamo provando prima se far andare ad avviso posturale o farlo d'osteopo stiamo facendo varie cose e ne converte 1 su 4 mediamente quando facciamo forte ne converte anche 1 su 2 praticamente però facciamo accorci che appunto i margini non ci stanno dentro quindi vi faccio vedere il costo di acquisizione poi dopo da lì in poi dipenderà da voi quello che comanda è sempre il costo di acquisizione ok questo di un lead di una campagna local però come faccio a valutare se oltre al costo per lead che è fondamentale se durante i miei test quando ci metto 10, 15, 20 euro 30 euro a parte Nico che fa i test con 10.000 euro Nico Nuzzi che è invitato per fare i test però quella è un'altra partita cosa succede? come faccio a valutare se funziona o no? diciamo la valutazione dell'anteprima delle ads ribadisco uno dice sono vanity metrics però sono le metriche per andare a capire se l'anteprima ha funzionato per poi andare a vedere se poi scalerà e se farà il costo di conversione ok però sono in fase di test come faccio a capire quello che va meglio? guardo due parametri il CTR engagement su tutti perché questo mi dice se la mia ads ha fermato la persona ok e il CTR reazione il CTR sul link mi dice se quell'immagine l'ha fermata perché ci sono i gattini o l'ha fermata perché ha suscitato il suo interesse la persona si è immedesimata in quel copy in quell'app in quell'immagine e poi se ha funzionato quello che ho scritto col copy tutto intero è anche CTR sul link perché capite se io qua l'ultimo 4 persone su 100 si fermano che mediamente è già un dato alto poi 264 di queste mi fanno il link e dico cavolo è interessante magari vedete qua 439 066 quando ho sempre delle cac va bene però capite sto valutando se va o non va io lo valuto con questi due parametri poi come si vende tante volte anche tante volte Francesco non è che se ha dei buoni CTR vuol dire che venderà ok è un punto d'inizio però se venderà dipende dall'offerta almeno a base il CTR comunque banalmente che già comunque va bene a livello locale anche se non vende ora venderà poi perché aumenti l'esposizione quindi se non hai variabili qualitative alte e variabili di azione come le chiami tu come è giusto che sia quindi variabili quantitative anche da questo punto di vista di livello non va poi dovete sempre tenere conto che più è di micchia il servizio più è di micchia che ci sia un rapporto agio tra il primo e il secondo perché magari come dire se tu fai un video dell'osteopata che fa che risolve il male alle ginocchia facciamo un esempio che è meno diffuso nel male di schiena avrai un CTR link più basso perché avrai meno persone ma se hai un CTR all alto funziona assolutamente poi intanto qua concettualmente rispetto alla media di tante account che vedo sto mediamente fermando non dico tre volte le persone ma due volte quindi è come se avessi due volte poi le possibilità di fermare di poi arrivare alla conversione punto primo poi come hai detto tu assolutamente Francesco è un business locale stiamo parlando hai mal di schiena non è che tutti hanno il mal di schiena però se vado su un business come un e-commerce è stato un attimo torna indietro un secondo che c'è un altro dato qui su questa bella tabella che è molto interessante guardate il numero di interazioni con la pagina tutta questa roba qua è tutto remarketing quindi tutta quella roba lì sono audience che Max si è creato con pochi spiccioli perché di fatto quelli sono adesso non so quanto avrai speso lì ma vedendo non mi sembrano cifre enormi vedendo beh no sono un po' queste cioè guarda ti dico adesso su questo qua ci sono 30 euro al giorno che vanno perché più di più non riesco a mettere cioè vorrei mettere di più ma non riesco perché è pieno perché non riesci a gestirli come è giusto adesso sta raddoppiando con il locale so che però potrò ancora spingere perché se spingo ne prende sono lì dequalificati perché poi andiamo a fare diversi servizi cioè vedete qua adesso adesso come osteopota videoschiena poi vedete la cosa è combinare le cose quello che dicevamo tipo qua videoschiena 1 copio 1 review videoschiena 4 copio 1 cioè vado a mischiare un po' le cose videocollo osteopota è quel video di prima copio 1 però lo vado a fare con tante cose quindi si può scalare ancora tanto insomma c'è c'è margine e questo è per un locale come dico tu comunque è bastante ristretto ma sono già degli ottimi dati se vado sull'e-commerce ho questi dati qua poi adesso io vi porto evitare polemica ma perché ribadisco sbaglio l'abbiamo finito l'icolo cioè l'abbiamo svoltato il magazzino però qual è il punto è tanto piccolo che fosse questa magazzina a me mi interessa far vedere come si attira l'attenzione e come si può poi portare alla conversione dipende da molti fattori però questo orologio sulle ads di test hanno fatto un CTR del 20% cioè ho fermato una persona su 5 praticamente quindi come se stessi facendo per 4 le possibilità di un ads normale di fermare persone il tasso di link come dicevo 6.24 questo va sull'e-commerce ok quindi insomma questo è ad to cart test aggiunta il carrello si vede qua ok quindi 6 centesimi 4 centesimi ma ne ho altri poi questa era quella dei bambini vi faccio vedere la campagna di questo come ho fatto a fare questi tassi qua ve lo faccio vedere fra un secondo dipende quanti siamo beh ma guarda ne abbiamo 254 credo che ci sono limitati Max non te l'avevo detto prima per non mettervi wow wow no sono contento grazie ho anche delle domande super fighe tra l'altro quindi poi andiamo a risolverle alla fine va bene io vorrei sapere se il signor Giannini è ancora tra noi così lo prendiamo adesso li scrivo vai vai e qua sono dei dati figli che pazzeschi questi dati qui c'è chi ti arriva del genere non su collection sono numeri belli ragazzi questo è questa è una creatività pure come vedete se le faccio vedere ve le faccio vedere fra un secondo e queste poi scusate questa è sull'orozio dei bambini che tira molto perché la mamma quindi è ovvio che ha questo tasso qua però anche per uomo orologio maker uomo orologio recensione questo è molto recensione orologio da Ferrari ha questi tassi di CTR e questi di link poi riferisco dall'altra parte dopo c'è il sito ci sono altre dinamiche però mi interessa farvi fare questo come lo facciamo? lo facciamo a vedere il caso? o facciamo le domande? eh beh è chiaro sono rimasti qua davanti qua davanti ok come ho fatto a fare questo questo loggio per bambini? allora caso non riuscivo a venderlo ne aveva qualche mille ma aveva finito praticamente un paio di settimane per l'orologio pesa come il bambino perché occhio lo vedo lo vedo bello bello pesante cazzo eh perché cos'è questo orologio? perché abbiamo venduto? perché questo risolve un problema specifico cioè è un orologio che all'interno ha una sim di un telefono quindi la mamma cosa succede? quando il bambino non lo trova può dal telefono chiamare l'orologio e il bambino risponde dove sei? ti sei perso? cioè capito? è per quello si è venuto molto bene perché rispondeva a un problema importante mio figlio mi è sparito dal radar dove è finito? lo chiamo tipo un braceletto per i carcelati praticamente hai entrato per tuo figlio ma lo puoi anche chiamare in questo caso devo dire che è una figata devo dire che è una figata però qual è il problema Francesco? io non sono genitore e quindi io non so nulla dell'ansia di una mamma di un papà come ho fatto? sono andato a usare le mie famose ecco lì sono andato a guardare i miei famosi hashtag ho cercato Nilox Bodyguard che era il nome dell'orologio e guardate anche l'ho portato anche per questo solo solo 102 post perché è una domanda che mi fanno sempre ma quanti post analizzi? ne bastano 30 40 50 perché tanto poi si ripetono e guardate che è successo ho avuto anche qua la fortuna io dico sempre oltre i post delle persone andiamo a leggere quel dell'influencer perché l'influencer di lavoro è colui che deve vendere qualcosa senza che venda però non può dire compra compra con il mercato deve raccontare una storia per poi andare a vendere quindi sono andato appunto a Nilox Bodyguard questa azienda non era il mio cliente era un rimenditore non era Nilox Bodyguard se vengono a precisare era un rimenditore di questo orologio e praticamente niente avevano fatto una campagna influencer alla casa madre e c'erano dei post bellissimi come questo avete presente in quale situazione in cui pur mantenendo il contatto visivo con i vostri figli continuamente basta uno starnuto per perdere di vista quando siete in un luogo pubblico che io sta roba non la sapevo io questa roba esattamente le stesse parole le ho riportate qua contatto visivo luogo pubblico le persone parlavano dei giardini ho trovato questa foto questa qua mi ha fatto questi nati test io assumerei il copy che ha scritto questa cosa perché ha fatto una c'è una roba pazzesca perfetto perfetto bellissimo bellissimo l'ho scritta io dovrei assumere perché questa è la vigna a Natale secondo me è il punto finale cioè hai vinto questa roba qua bravo bravo no vabbè io per cosa faccio io prendo tre clienti io faccio praticamente 80% analisi però per fare appunto i case study così cosa faccio prendo ogni anno tre clienti uno B2B uno local e uno e-commerce a cui invece li faccio io la propria parte uno per mantenermi sempre sul pezzo diciamo e due per fare i case study quindi questi erano di quelli mi ha detto sì aiutandolo dopo mi fanno anche per quello faccio vedere queste cose copro i nomi però posso farli vedere insomma quindi mi ci metto mi sporco le mani da solo poi si potrà scrivere in mille modi io vedi io uso i copi lunghi io con lo stile che ho le analisi ognuno c'è il suo non dico che sia giusto o meno però questa roba mi porta a questi risultati qua è un costo a conversione acquisto 6 centesimi di là sull'e-commerce poi di là c'è da fare un'altra partita ancora c'è un giro di boa però insomma andiamo avanti dai questo è sempre lì un parco divertimenti un centro commerciale per un istante vostro campo visivo di nuovo qua può capitare in un parco al supermercato per strada guardate che immagino ho preso un bimbo al supermercato anche questo insomma ha fatto dei dati interessanti anche quest'altro farvi vedere vedete poi quante ce ne sono poi questo è anche ades di retargeting per dire questo mi sembra che fosse di retargeting ho trovato un bodyguard che mi dice sempre dove si trovano i miei bambini verifichi in qualsiasi momento dove si trova il tuo bambino quindi dopo uno le modifica le mette le fa però è questo prendo spunti e le metto a terra così questo è un'altra sempre di nuovo si è perso il bambino di nome Tommaso io qua cosa ho fatto siccome restate stiamo cercando i genitori di Massimo un bambino di otto anni che si era perso i genitori sono pregati di andare dal bagnino no perché stavano dicendo di spiaggia abbiamo detto la persona quante volte si può perdere un bambino quindi abbiamo ricreato questa cosa però era era di spiaggia e abbiamo fatto questo insomma anche questa è andata è andata molto bene ribadisco poi dovevamo fare questa ma poi rivolgo il covid perché fu che esiste di un paio d'anni però sempre molto attuale avevamo trovato anche queste cioè che avevamo messo il bodyguard vedete per andare sugli sci dovevamo fare questo angolo però purtroppo è arrivato hanno anche usato le piste quindi niente c'era questo sul cane non so se sarebbe andato però mi ha dato lo spunto l'avrei potuto fare insomma quindi per farvi capire non c'è se gli telefoni hai il cane non so se ti risponde eh no ma perché c'è anche il gps che ti dice dov'è cioè oltre a chiamarlo ti da è piaciuto divertente però se chiami il cane ti risponde sono qua potrebbe quindi insomma dopo di tutto ovviamente da testare però dai spero che insomma vi dico sempre io il mio obiettivo è che i microdati diventano un asset per il lavoro che facciamo per me per i miei colleghi quindi se vi piace insomma siamo qua rimaniamo qua per un po' di domande su LinkedIn posto un po' di roba e esatto allora sì piccole cose tecniche libro di Max se non ce l'avete ragazzi è un buon investimento lo dico da anni da quando è uscito fondamentalmente anche da prima forse ottimo investimento poter seguirlo su LinkedIn poter seguirlo dovevi fare fa anche delle belle live ogni tanto su Instagram grazie con degli ospiti gli ultimi due che hai fatto gli ultimi due tre insomma mi sono seguiti molto interessanti quindi direi che ci siamo e e adesso rispondiamo un po' di domande per rispondere a un po' di domande tiro su il nostro amico comune eccolo ciao ragazzi ciao Giannini benvenuto al nostro amico Federico Giannini di GH che è un'agenzia di Cesena che tra l'altro insomma chi frequenta AdSchool lo ha già visto in qualche video o anche forse sul mio canale YouTube c'è stato anzi sicuro avevo i capelli una volta aveva un ciuffo meraviglioso poi adesso ho deciso di fare il il serio Bruce quello di di coso di mamma mia Bruce Harper avete presente quello di Oli e Benji esatto e come stai Fede molto bene vi ascoltavo bene allora benissimo allora non bene Fede questa è l'anteprima un po' della lezione che farò da te in agenzia fra non lo dire che è riciclata devi tutto attento no no sarà molto più complesso se me che la fai che vengo a fare un giretto così poi andiamo da Marcella a mangiare quindi ragazzi siamo live ve lo ricordo allora ragazzi abbiamo un sacco di domande a cui rispondere primo prima domanda partiamo dalla fine tra l'altro uno ha scritto mamma mia che bel ragazzo che è entrato sicuramente Michelangelo è stata mia mamma ultimamente Facebook ti consiglia di scrivere copi corti per avere i maggiori risultati so che non ha senso ma voi cosa ne pensate immagino che la risposta sia dipende cosa ne pensate voi ragazzi ma no lui si è fatto la domanda la risposta è anche la punita nel commento cosa gli vuoi dire sai già tutto è così è così c'è il dato dai c'è il dato si prova ognuno poi c'è il suo ma poi c'è il suo mercato la solita risposta cioè c'è risposta però Francesco ti rispondi tu che sei più ma io lo rispondo la risposta la risposta dipende da quanto siete bravi a scrivere ragazzi più bravi siete a scrivere più lungo verso il copy questa è la legge domanda più tecnica quello che tu hai mostrato Max erano foto video mix dei due allora io faccio così allora per quanto riguarda il posturale era un video puro per quanto riguarda l'orologio non avevo video ho fatto lo slideshow perché perché io sempre faccio adesso soprattutto già lo facevo prima dopo iOS 14 imposto un audience di retargeting su chi ha interagito con il video o con lo slideshow quindi mi permette di far partire immediatamente il retargeting quindi per me è sempre un video uno slideshow però appunto l'immagine anteprima va a scelta in modo super accurato perché è quella che ti ferma dal mio punto di vista che tra l'altro è una cosa che tutti gli advertiser odiano perché vuol dire doversi pensare fermarsi eccetera e invece meglio fare il meno e farlo meglio che farlo di più che far di più e poi non capire dove si sbaglia questo non so se anche da te in agenzia Fede è così però l'approccio è sempre quello di dire velocizziamo in realtà a volte rallentare aiuta dipende sempre dal contesto dagli obiettivi però in generale cioè farle cose con la testa non è mai un male piuttosto che farle velocemente a casa ma guarda faccio un esempio adesso un altro cliente sto facendo un'analisi è un'analisi a livello internazionale loro sono un dropshipper ma non è Nikon è un altro anche loro fanno bei numeri e praticamente hanno testato un prodotto hanno fatto 6.000 vendite in giro di poco però non sono andato a profitto per bene perché perché hanno detto noi siamo partiti non sappiamo in che paese andare ci penso io analisi micro dati li ho trovato in base alla concorrente in base alle ricerche adesso quando la settimana prossima presento l'analisi li do 5 paesi dove andare rispetto a tutti quelli che i 200 che hanno testato cioè hanno buttato soldi si vede chiaramente sia nel Google Analytics che adesso poi dicendo quello vi faccio vedere dove è la concorrente dove c'è la ricerca vai direttamente lì poi mi sono fatto l'analisi dell'Excel scaricato da dove vengono le 6.000 persone ho incrociato un po' di dati insomma ho trovato 5 paesi rispetto a 200 quindi in realtà partire con una teoria diciamo delle 5 ipotesi da testare è meglio che dire vado su Lusco e Bruce vado a Bruce e lascio fare a Facebook così poi ti manda sempre in Bangladesh per la metà delle volte uno quello due magari prima poteva anche andare bene perché CPM costavano meno anche Nicolo diceva lo faceva e ci sta però le tecniche cambiano di anno in anno oggi CPM costano due volte di più trovate di più è una tecnica che non permette ancora di cioè non permette più di fare questa cosa secondo me poi le discussioni dati io lo affermo dal 14 febbraio del 2017 che è la prima volta che ho fatto un post su Facebook Advanced dai non so se ragazzi non lo so perché me lo ricordo perfettamente il giorno e praticamente io affermavo che utilizzavo una tecnica che era quella del clustering cioè dividere i paesi per fasce ok per tipi di paesi per insomma io lo spiegavo per CPM però il principio è lo stesso quella roba funziona ancora perché funzionava prima per un motivo cioè non è Facebook è il buon senso non puoi mischiare tutto poi se all'inizio ti andava bene perché costava poco per tutto bene però adesso che paghi 20 dollari gli istituti uniti un CPM insomma insomma io non mi non mi dispierei andare lì perché perché mi han detto che si vende tanto US o meglio ancora adesso non so se è capito anche a voi andiamo in Spagna perché sono uguali agli italiani la lingua è uguale quindi capiranno e poi si schiantano contro il muro proprio brutalmente proprio così che non funziona niente in Spagna perché perché le abitudini di consumo sono diverse per esempio non so io ho fatto un esempio così ma ce ne sono centinaia questa invece è una domanda che faccio entrambi come fate a trovare dei dati per l'estero perché magari i tool che hai mostrato prima Max non funzionano sempre per l'estero quindi sì funzionano answer the public funziona ma se vale funziona l'hashtag assolutamente funziona quindi guarda io dico veramente i microdati sono universali perché io ho sempre installato il Google il Google Translate il plugin quindi anche un post in coreano in giapponese posso tradurlo quindi quello che abbiamo visto possiamo farlo anche con hastag e pagine straniere completo non cambia nulla per fare quello che abbiamo visto dall'altra parte se invece come stavo dicendo adesso l'esempio su in che paese devo andare devo usare altri altri tool posso usare appunto andare a vedere attraverso tool come SimilarWeb che mi fa vedere da dove il traffico di un sito e in 5 paesi dove fa più traffico posso usare Samrush anche lì per vedere Uber Suggest per andare a vedere il traffico organico dove viene quindi anche lì posso usare Google Market Finder per vedere dove Google mi consiglia di andare a in che paesi andare a biddare dove c'è una buona proporzione tra costo e domanda comunque il libro spiego un po' tutto e poi un altro per andare a vedere il traffico ah Modash no possiamo usare Modash quello che tu vedevo prima perché è interessante Modash oltre a farci vedere i post con più engagement con più interazioni ci fa un'analisi anche sulla audience di quella pagina e ce la fa proprio diviso per paesi per lingua quindi anche lì metto insieme questi 4 dati questi 4-5 dati e dico secondo me qua perché India è uscito qua è uscito anche qua è uscito anche là o India no perché è nemotivi perché è uscito per tutto forse è un falso positivo o forse dopo va interpretato non si prende l'intesione mai su un dato un micro dato un macro dato si prende con l'insieme di dati concordo te Fede cosa fai qualche spunto in merito allora se c'è mercato intanto c'è un posto magnifico che si chiama ad library e puoi andare a vedere cosa fanno i player già in quel paese per il resto io venendo dal mondo startup ho un approccio molto più empirico io vado molto d'accordo con Max perché di analisi ne ho sempre fatta poca sono più un fan del testare di fare degli esperimenti veloci a basso budget che ti portano dei risultati indietro trovo che in generale non ci sia un metodo migliore di un altro no assolutamente senti più volte diciamo ho discusso molto su questa cosa con Federico io dico appunto va anche io vado in test non dico è giusto però andiamo in test appunto con dei dati cioè partiamo da delle ipotesi insomma non solo sulla pancia che a volte vanno bene quando uno è bravo come te deve fare l'analisi dei microdati come la spieghi e io sono un grande fan al punto che stiamo collaborando tantissimo proprio per natura per approccio io sono più di testare togliermi dei dubbi piano piano e scremare nella maniera più veloce ed economica possibile quindi io approccerai la cosa con dei test perché tanto dai dei punti fissi dovresti averli o comunque se c'è mercato non devi inventarti niente dei competitor ti fanno vedere più o meno ti fanno intuire cosa potrebbe funzionare a me piace approcciarla in questa maniera più empirica poi non dico assolutamente che l'analisi sia sbagliata anzi come detto io e Max ci stiamo collaborando e quando io ho le analisi di Max Nini esatto lui c'è lui ma d'accordissimo dovresti sdoppiarti io non ti posso i lavori perché Fede ha detto che te ne passa troppi e allora vabbè lascio fare a Fede lo vuoi dire no no fra li passa a me quindi siamo facciamo così esatto vedi praticamente quando sono grossi non li puoi ridare a Fra che li spreme ok a parte gli scherzi ragazzi qua ci sono delle domande molto molto interessanti allora intanto scusa Fra quella sopra il bot di Max funziona c'è un bot che si chiama Federico Magnolfi che fa i commenti ah sì sì che dice il bot di Max mi ha permesso di aprire dei mercati perfettivi fin da subito è stato mio studente e vieni a fare le live su Facebook Ads con la clac pronta a supportarlo mi ricordo a qualche criptogenio che fa questo clac ultimamente non so se avete visto su ma lascia stare allora scusate ho digressione no no hai fatto bene su nicchie molto specifiche di beni che non sono di prima necessità come i vestiti e non risolvono un problema da dove consigli di partire il medesimo processo o hai altri altri spunti a parte che i vestiti risolvono un problema di prima necessità bravissima intanto se giri nudo comunque assolutamente io dico come facevo a dire prima cioè noi acquistiamo può essere un acquisto d'impulso ma in realtà c'è sempre un bisogno dietro cioè il vestito può essere appunto il bisogno di essere in quel caso era tutto pubblico femminile vestiti femminili quindi parlo femminile era per in Brasile mi vesto bene stasera perché spero questo weekend di conosci il mio principe azzurro quindi mi sto facendo bella per questo quindi se io ti scrivo poi incantato le parole le parole che usavano vuoi essere mi ricordo che si dice in portoghese era però vuoi incantare il tuo principe azzurro questo weekend guarda la collezione che c'è per l'outfit del sabato sera quindi il bisogno c'era adesso sto facendo oggi iniziato l'analisi per quanto riguarda dei gioielli e c'è un motivo per cui compriamo i gioielli qual è il motivo e sto andando a ricostruire questo quindi questi motivi per cui li regaliamo ancora i gioielli che c'è ancora già così perché li compri perché li regalano hai mille cose da testare migliaia di cose assolutamente ho tipo quel cliente internazionale sono roba su delle medaglie ma perché la gente si compra delle medaglie sono andata a vedere attraverso questi passaggi molto sui social che si taggavano e ho capito perché la gente si compra una medaglia si autoregala una medaglia fa una gara una gara virtuale e io dice ma questo è matti spendono 40 euro per una medaglia invece c'è un motivo molto serio per cui lo fanno e hanno ragione loro quindi se noi capiamo questo mettiamo in leva poi dopo possiamo andare a fra c'è Ivan che ha fatto una donna alla domanda di prima sì 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 vabbè insomma diceva che non intendeva insomma era un po' contorta la domanda ma comunque sì comunque c'è sempre c'è sempre un bisogno leggete il libro Jobs to be done che spiega proprio questo ancora meglio ragazzi andate su youtube cercate Christiansen Jobs to be done ok e c'è un video di 20 minuti ok perché quel libro è meraviglioso però fondamentalmente i concetti come succede molto spesso con gli americani li puoi vedere in 20 minuti di intervista c'è questo caso in cui lui racconta di come hanno svoltato il business dei frappè di McDonald ok non ve lo spoiler ma è una pomba e mi fa capire cosa vuol dire Jobs to be done è una teoria una teoria io la chiamo teoria sono spunti stimoli c'è esatto molto molto fighi poi se avete voglia di approfondire il libro è pieno di altri spunti utili e idee eccetera però sono tutte cose già fatte dovete capire quello ci sta dietro comunque è ottimo guardatevi quel libro lì guardatevi quello altra cosa interessante andare a vedere sul sito di Nick Colenda Nick Colenda è un teorico del psicologo del marketing eccetera ha un sacco di esempi su questo tipo di azioni quindi studiatevi queste cose se poi ragazzi volete i nomi dei libri eccetera come al solito mi scrivete in DM e vi rimando o scrivete a Max o scrivete a Fede che visto che è qua a fare il bello almeno vi rispondi i messaggi quanto meno il Colenda l'ho conosciuto grazie a te mi sa solo donne tra l'altro devo dire come sempre allora può andar bene anche per fare analisi no ha senso guardare anche ciò che succede su Amazon si direi sempre sempre le recensioni allora Amazon ha due cose importanti una le recensioni dico sempre l'opinione post acquisto delle persone perché sono contento o meno cioè le domande le aspettative per acquisto sono state validate o meno rispettate o meno quindi importantissimo ci sono anche le baglie a persona sono X e ho comprato questo perché ho comprato la vitamina C perché sono uno sportivo e l'ho comprato l'ho comprato perché sono uno studente perché sono un anziano quindi c'è tutto là dentro invece i dubbi a metà circa della pagina sono le domande che le persone fanno sono persone che sono lì per comprare ma non stanno comprando perché hanno un dubbio una domanda andiamo a leggere lì dentro c'è l'oro lì dentro ad esempio molte anche parti tecniche che sono importanti cioè questi braccialetti guardavo ma anneriscono come si chiudono ma tiene la chiusura la chiusura com'è? se tu ti chiedono della chiusura io nella scheda prodotto dovrò scrivere grande come la casa che quella chiusura è fatta con l'acciaio XY ed è fatta in Italia e così via questo è assolutamente quindi c'è il mondo su Amazon Amazon vince altra domanda in che modo usate i microdati per i vostri personal brand? per i contenuti quale? io volete sapere che ho trovato la mia baglia persona perché ho fatto il libro così estremamente tecnico ma chi è che compra il libro in Italia di marketing? sono andato su pagine di colleghi come la Veronica che l'ospiterai che lei ha venduto più di una di cose che vende più in Italia domani sera alle ore 19 se non ricordo male ma poi vi metto il link anzi lo dico subito però se non mi ricordo se era 18.30 sul mio profilo Instagram farò una bellissima chiacchierata con Veronica Gentili che è una grandissima esperta di advertising di social media più in generale e quindi se volete partecipare ci trovate su Instagram a darvi un po' di spunti di tipo differente perché vedrete io e Veronica facciamo lo stesso più o meno lo stesso mestiere ma con tipi di clienti differenti e vedrete che escono sempre delle idee molto molto croccanti insomma l'ho già intervista in passato ed è estremamente stimolante come chiacchierata scusa Max torna no 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 assolutamente e dicevo come ho capito chi è che compra libri in Italia sono andato a vedere la tab di brand della Veronica Gentili di Saletti di 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 Studio Samo chi compra i corsi di Studio Samo di Facebook sono andato a vedere sono andato a vedere e c'erano le persone disastrateci la gente che qua credo che tutti voi siete freelance o agenzia avete bisogno di fare la strategia tutti i giorni o Facebook Advertising in questo caso ovviamente ma tanto comunque quello è ormai è un lavoro unico non è che stiamo qua a dire però capito io così ogni volta che le persone mettono like a mio post o post di una persona appunto di un mio collega sono andato a vedere ho detto mi sa strati la strategia ho fatto il libro super tecnico chiedete quello dalle recensioni avete messo alla Veronica Gentili che vi piaceva il libro perché era passo passo sui social e quindi ho fatto il libro passo passo sull'analisi ecco io ragazzi invece mi guardo le domande che voi fate all'interno di questa community cerco di capire quali sono le domande e poi tutte quelle che mi arrivano in DM e in base a questo l'ho già detto 100.000 volte e creo i contenuti in modo da risolvere quelli che sono i vostri dubbi quindi più domande fate migliori i contenuti avete in cambio ovviamente a volte poi ci sono delle necessità dovuto al fatto che io devo anticipare le vostre domande perché altrimenti sono sempre lì a rispondere a queste cose e quindi facciamo dei contenuti un pochettino più avanzati come può essere live con Emma la settimana scorsa live con Max questa sera e anche altre cose che insomma avete visto che vedrete nel prossimo periodo che servono proprio per evitare che poi facciate le domande base per voi per così evitare di perdere tempo più che altro però insomma l'approccio è quello analizzare quello che succede eccetera te Fede come curi il tuo personal brand invece su Tinder non ho personal brand ragazzi ma su Tinder sei quello che ti converte di più obiettivamente sicuro io non gioco non so Max ma mi ha detto prima che sono amorosa quindi neanch'io neanch'io non ho neanche l'account pensa te però potrei potrei rispondere a Riccardo Stoppazzola è come Marzullo si fa le domande e si fa le risposte ha un problema e potrei risolverglielo posso mandarti Libani Riccardo non ti preoccupare cosa ha scritto è il penultimo ah ok io non riesco a stare dietro ho tutto il valore che dà gratuitamente non vorrei dire non vorrei dire che risolva anche questo problema beh guarda posso andare a trovare Fede due o tre giorni per due o tre giorni noi facciamo live il problema è che dopo la mia battuta la mia battuta era con la sua amorosa dai ah ok sai scusa non volevo no però guarda finalmente un trigger Fra da quando un tuo libro escilo Fra dai escilo e lavori troppo anche tu un momento un momento ragazzi volete un mio libro scrivete il mio nome su questo gruppo e vi leggete i 500 contenuti che ho scritto e sono sicuramente più interessanti di un libro impacchettato che il giorno dopo non vale più niente o meglio magari vale però va così ci ho pensato tante volte ponendo avrei anche l'editore ma non è per me devi fare un strategic advertising tipo quello scientific no com'è scientific esatto un libro così un libro così vogliamo così non passa mai di moda quando avrò finito di scalare l'agenzia di fare un anziano signore che deve raccontare la propria vita farò esattamente questo io ci riesco per l'ho scelto di non fare l'agenzia lo so prendi se vedi che fresco è Max è freschissimo non c'è l'agenzia guarda che sorriso la differenza non fate l'agenzia di comunicazione ragazzi non fatelo o comunque pensateci bene esatto allora queste tecniche si possono applicare alle ad dinamiche si funzionano uguali ovviamente più è dinamica l'ad meno dati più avrete dati aggregati quindi conseguenza potrebbero non essere facili da discernere parlando del mercato coach ok Christian da dove partiresti per fare l'analyze dei dati è un mercato d'altissima competizione analizziamo micro macro dati è sempre lì che bisogno risponde il coach se è sullo stress sulle performance che bisogno risponde e inizia a fare l'analisi dal bisogno non cambia nulla poi c'è la concorrenta vado a vedermi la concorrenta che è in quella nicchia che sta parlando qual è il valore il posizionamento che porta e stress adesso la banalizzo risolve il stress agli studenti per studiare poi meglio o al manager cioè sono due posizionamenti diversi con lo stesso bisogno quindi questo non cambia assolutamente nulla ragazzi bisogna ragionare prima di fare la ricerca e non rispettare prima di ragionare se no non si finisce più che dall'analisi dei micro dati anche ragionare molto sull'offerta e sul posizionamento del coach guarda la mia l'analisi dei dati cioè cosa succede io faccio sempre dico sempre mi sembra ancora assurdo nel 2022 parlare di posizionamento però a me vedere la domanda di mercato la concorrenza seguimenti di mercato mi serve che vengono fuori n opportunità dal mercato mi serve andare a definire il posizionamento con cui la persona riesce a portare la sua identità nel mercato cioè prendo questi tre elementi le incrocio con la sua identità i suoi valori i suoi obiettivi e trovo il posizionamento e poi da lì parte la strategia operativa ma tutto il giro di voi è il posizionamento se no non andando a nessuna parte è la baia persona o le baia persona però oggi così mi pare che la maggior parte delle start up fallisce perché non c'è market need non market need questa è la base quindi se sei un coach a nessuno serve un coach di per sé serve un coach per risolvere un problema quindi trova quella del market need e crea un'offerta su questo che non è magari facile però magari lo è se fai l'analisi dei microdati ma guarda ma io riesco ho fatto anche qui ci ho preso le medaglie che non posso qualcuno ha scritto qual è il motivo per cui lo compro vabbè m'ha pagato per dire quindi non posso dire se sono buono dai vi dico io perché la gente compra le medaglie perché non mi hanno pagato per farlo perché se giocano online o fanno determinati tipi di azioni determinati tipi di competizioni anche dei giochi da tavolo eccetera ci sono delle persone che si vogliono riconoscere all'interno di una community e per farci riconoscere all'interno di una community hanno una medaglietta perché la gente compra la tazza dei pokemon perché la gente compra la bacchetta di harry potter perché la gente compra queste cose qua perché la gente compra la cut dei pokemon personalizzate per esempio se ne sono mille business di questo genere perché 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 fondamentalmente vuole riconoscersi farsi riconoscere all'interno di una community le community diciamo ampie non le community settoriali come queste ma le community ampie quindi orizzontali che possono essere quelle appunto legate a giochi da tavolo videogame eccetera sono community che si nutrono del fatto che se sei parte della community sai come la gente parla e cosa parla e come si veste e come si comporta se sei fuori non lo sai esempio pratico se io dico cottura CBT ok lo faccio spesso questo esempio se sei dentro in un certo tipo di community sai cosa vuol dire CBT altrimenti lo cerchi su google e non ti esce quindi ok non saprei cosa comunque si un po' questo come non serve come la CBT Max dai cottura ma io cocino vegano vabbè ma lo usate anche voi vegani questa roba qua brutta gente che non mangia da carne ma la CBT funziona tutte le cose vegano ok Fede fatti una domanda e date una risposta che sei molto bravo in questo no no intanto ha dato anche il link del libro grande Fede quindi devo fare io la cena da Marcello esatto esatto se mi basta una condivisione di un link raga adesso ne mando altre 5 o 6 chiedetemi c'è molto altro c'è molto altro lo sai ok usi una scaletta delle analisi che fai questa è la domanda che volevo farti prima è nel libro nel tuo libro si sono 40% guarda io veramente quello che faccio manda anche il link del tuo libro dai allora ne manca il dessert va bene no a parte le battute veramente io quando faccio analisi faccio i 40 passaggi la differenza qual è è come noi siamo in grado di prendere quei dati trasformarle prima in informazioni quindi posizionamento via persona strategia diciamo e poi strategia operativa quindi a noi pagano quello non è che pagano come raccogliamo i dati perché io lo racconto come raccoglio i dati perché intanto appunto c'è una persona che possono imparare che possono vendere libri e così via ma poi i brand io col libro ho preso dei brand importantissimi ho preso uno che quando lo potrò dire quindi poi ti chiamano per prendere quei dati e fare una strategia per loro questa è quella città no no Francesco è un grande grande alza dell'1% il fatturato grazie a quello che tu gli stai dicendo tu gli hai svoltato il business per l'anno a volte cioè nel senso hai pagato gli stipendi tutte le persone che ti hanno assunto non solo il tuo quindi ricordiamoci sempre che insomma queste cose semplici a volte le grandi aziende non riescono a farle perché 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 non riescono non è competenza a volte è proprio possibilità saperle fare vi dà un vantaggio competitivo enorme enorme ok cosa succede dal momento che il tuo cliente con un local business ti blocca il budget e le ha da 15 euro al giorno come ti comporti Fede tu che magari sei più bravo con il local business perché io gli direi cambia cliente ma non sono cosa faresti se ti bloccano il budget guarda mi capita anche su clienti che spendono 7-8 mila euro al giorno è un problema va settato molto bene di chi ha la responsabilità delle campagne perché poi quando tu blocchi un ad magari anche non capendo che lo stai facendo diventa un problema e quindi dici dove inizia la mia responsabilità e dove finisce la tua perché se tu puoi staccare tutto quando vuoi allora poi io non rispondo del risultato delle ad fatto con 15 euro nel nostro contratto c'è scritto che si mettono le mani sull'ad account e da quel momento in poi noi possiamo mandarli a farsi benedire scritto in cubitale proprio a farti benedire ma non esiste ci sta ah vabbè voi adesso siete siete loop siete tanti siete posizionati bene siete una delle agenzie più grossi d'Italia avete anche la forza per farlo io mi metto nei panni di uno che magari gestisce dei local business a 15 euro al giorno 500 euro al mese ha delle criticità in più a battere i pugni sul tavolo a farsi rispettare però è tosto però puoi anche anticiparlo secondo me è il punto se lo ti dici ti do 15 euro al massimo al giorno tu gli dici ok con 15 euro potenzialmente possiamo fare questo se tu vuoi di più devi mettere di più e lui ti dirà intanto devi portarmi il massimo con questi 15 intanto cominci da 15 e cominci poi ovviamente ci sono dei clienti buoni e dei clienti non buoni e questa è la legge cioè non possiamo farci niente io intendo io intendo che ve ne stoppino a caso cioè con quel budget concordato perché a un certo punto l'imprenditore si sveglia e dice stiamo spendendo troppo almeno ah beh sì potrebbe anche essere quello sì la casistica nel local sì guarda comunque nel local questo per dire a un cliente che sto seguendo uno perché vedete è partito da un'analisi sto mettendo giù come voglio nelle mille attività sto facendo un case history nel local però strutturato e più la cosa bella è perché ci sono vari servizi da testare e quindi non ti paga solo la consulenza delle facebook ads anzi per il local ti paga che tu lo stai affiancando a creare un sistema digitale spassati la parola da anni 2000 boomer però anche quello li dobbiamo vendere quindi non dobbiamo solo venderli l'ads in sé ma accompagnarlo in questo cambiamento che vuol dire puoi anche assumere una figura nuova o no c'è anche adesso magari tu vuoi ne fate più queste cose che appunto l'agenzia poi no no ma le facciamo anche noi perché guarda però ti pagano anche quello è anche molto bene tre giorni fa eravamo da un un grosso cioè un'azienda molto grande poco digitale ok questo classico da Italia in cui ci sono aziende che fanno decine di milioni di euro di fatturato sono strutturate in modo eccellente dal punto di vista della produzione della gestione della logistica cioè fanno delle cose ma ragazzi innovazione pura ok su micro aziende che dici ma com'è possibile e poi però si perdono perché perché si perdono sull'ultimo miglio ok che è quello di dire ho fatto tutto e dopo ho aperto la bussola perché magari arrivo stanco alla fine dopo cominci insieme a lavorarsi a farti capire e anche se sono un local business possiamo fare grandi cose no no ma questo qui c'è ragazzi 5 punti vendita in 3 anni anche 10 punti vendita bravissimi infatti con lui lui sta ragionando di fare un franchising cioè concettualmente di lavorare e questa è la sfida che stiamo facendo insieme poi adesso di aprirne altri e poi anche un altro brand quindi insomma si può fare delle belle cose quindi in realtà ci sono dei local l'ho portato a posto ci sono dei local che in realtà possiamo non la pizzeria sotto casa che quella è quella a 15 euro c'è poco da fare ci sono invece dei local business interessanti io ho un'azienda che è una centrale elettrica cioè un fornitore di energia elettrica a livello local capite che non è poi in Veneto quindi capite che in realtà è interessante lavorare con questo tipo di aziende local esatto fanno qualche milioncino di fattura cinquinaia di milioncini nel mondo dell'elettricità e quindi diciamo che il tuo costo il costo della tua consulenza l'hanno pagato con l'aumento dello 0,0,0,0,0,1% ma solo che il lead che va prima le convertiva a cifra se le converte un'altra già quello gli cambia la vita ma questo poi noi l'abbiamo visto con una concessionaria a Roma noi per esempio abbiamo dei clienti una concessionaria di Roma insomma abbiamo alzato la qualità del lead e a qualità di costo converte di più immaginatevi una concessionaria molto grande che numeri fai in un anno quanto costa il tuo servizio Max? beh io direi di scrivergli in privato no ma guarda ce l'ho chiaro sul mio sito adesso sul mio sito c'è scritto tutto perché se no perderai tempo passate molti ti chiedono poi gli dici il prezzo e ti dicono ah non me lo posso permettere allora ho fatto la mia pagina ci sono due servizi e c'è scritto quanto costa fare un'analisi comunque la risposta è sempre abbastanza anzi mai abbastanza mai abbastanza quanto costa mai abbastanza ok va bene poi c'è un altro caso giustamente dicono a volte più di quello non posso fargli spendere ma tanto io il mio l'ho fatto è lì è lì ragazzi ci siamo è arrivato bene io direi che dopo un'ora e mezza abbiamo dato io vi ringrazio spero di vedervi presto anche assieme poi se mi fermate un secondo dopo la live vi dico anche dove tanto a Max l'ho già anticipato prima e ragazzi se avete delle domande in più o rivedendo la live scrivetele pure altro punto domani insieme vi ricordo che appunto intervisterò Veronica Gentili sul mio profilo Instagram e dopo domani ci sarà l'intervista con Luca Lamesa quindi due grandi ospiti in due giorni e poi c'è un'altra bomba per giovedì ma ve la dico poi sto da facendo perché quella è una bomba vera un brand italiano che sta facendo dei numeri clamorosi non è il mio cliente però con Facebook ha costruito un brand incredibile e l'abbiamo ospite giovedì quindi insomma nei prossimi giorni c'è un sacco di roba da fare mi vedrete tantissimo live e direi che per questa sera abbiamo dato se vi è piaciuta questa lezione un commentino un like anzi un like e un commento su YouTube fanno sicuramente piacere e soprattutto andate a seguire i miei due ospiti prima di tutto Max per il tempo che sono dedicato e poi Fede perché solo donne ovviamente per Fede e anche loro continuamente vi danno degli spunti utili che insomma io credo che appunto aiutino a crescere questo mercato al via di tutto buona serata e ci sentiamo presto ciao ragazzi grazie mille grazie mille Francesco ciao grazie a tutti ciao ciao